Finalmente è venerdì, questa settimana vi segnaliamo tre offerte low cost per l'aperitivo. La prima idea è di andare da Trivetheim in Marghera, si tratta di un locale specializzato in tramezzini veneti che è nato a Torino. Ogni martedì per tutto il giorno qua tutti i tipi di tramezzini, tutti i tipi di spriti si pagano soltanto 3 euro. La seconda idea è di andare da Bar Bruto, siamo in zona Bocconi in una birreria artigianale molto carina, curata, giovane. Tutti i martedì e i giovedì dalle 18 qua la birra media costa 3 euro. L'ultima idea è di andare dal confine, siamo in un pub super informale in zona Solari che propone anche da mangiare. All'ora dell'aperitivo tutti i giorni è possibile ordinare da bere e avere il 50% di sconto sul cibo. Ci vediamo venerdì prossimo con altre tre idee per il vostro weekend.